silvia aveva le manette silvia detta cap e mirio trapassano a cura di vb silvia e mirio erano in fila per il check-in allo sportello della sabena per prendere il volo sn 148 mirio aspettava rispettoso di chi era avanti e dietro di lui e non lasciava spazi davanti a sé avanzavano lenti verso il loro prossimo futuro silvia pensava al terrorista con cui si doveva confrontare davanti ai giudici a bruxelles da qualche tempo aveva molti dubbi sul suo passato di cap mirio non ripudiava ciò che era stato e sentiva che il suo passato lo aveva costruito dentro andava a bruxelles per partecipare a un convegno dell'icd un carabiniere chiese per silvia un posto nel settore dei non fumatori e mirio ne chiese uno accanto al finestrino passarono il controllo passaporti e attesero davanti all'uscita del volo si guardarono pazienti senza vedersi pensavano agli avvenimenti di bruxelles prossimi anelli di un futuro che non sarebbe stato fisico sfilarono davanti alla hostess con le carte d'imbarco al termine della rampa entrarono nel bus in cui attesero in piedi con le porte aperte e pieni di freddo l'hostess batte con un mazzo di chiave sulla ringhiera e l'autista partì procedevano piano tra gli aerei fermi come uccelli stanchi silvia guardava il suo riflesso sul vetro del finestrino e scorse le manette nascoste dall'impermeabile pochi metri più in là appeso al corrimano mirio ripassava l'intervento che avrebbe dovuto leggere al convegno dell'icd il bus si fermò accanto alla coda dell'aereo e i passeggeri scesero in fretta silvia accelerò il passo per salire per prima sulla scaletta seguita dai due carabinieri mirio salì tra gli ultimi sfilarono nel corridoio leggendo i numeri dei posti silvia trovò subito il suo e chiese alla scorta di toglierle le manette sistemò l'impermeabile nel bavule infilò il bagaglio a mano sotto il sedile e si sedette fra i due carabinieri commento l'uomo di media evoluzione parla del futuro come di un'entità estranea a lui non sa che è lui la chiave del suo futuro come di un'entità 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 come di un'entità